in questo video invece vi faccio vedere come passare i punti su un filo di scarto questo si può fare nel lavoro circolare così come in altre situazioni è una tecnica importante da conoscere per lasciare in sospeso alcuni punti del lavoro per poter provare indossare il lavoro un certo punto allora quello che devo fare è avere una goda lana abbastanza grande se possibile ma comunque vanno bene anche quelli in metallo un pochino più piccoli e un filo di scarto che sia più o meno della grandezza del filo che sto usando quindi assolutamente non prendetelo troppo fine perché se no i punti rischiano di scivolarvi via dentro diciamo al lavoro e non fate faticare recuperarli quindi un filo grossino come quello comunque della grandezza del lavoro che state facendo e non fate altro che tenendo in mano il lago da lana con il filo cominciare a passare punto dopo punto vedete raccolgo i punti come se fossero dei rovesci e li passo piano piano uno alla volta si vede entro sotto da destra verso sinistra come quando si comincia un rovescio cercate di non sfibrare cioè di entrare bene nello spazio vuoto e non all'interno della fibra e continuate così piano piano fino alla fine del lavoro adesso questo che io non è un lavoro circolare era una pezzetta che avevo già iniziato quindi era già pronta per farvi vedere un paio di tecniche vi faccio vedere arrivo fino alla fine così vediamo cosa ci ritroviamo in mano in sostanza abbiamo liberato man mano che andiamo tutto il ferro vedete e abbiamo il nostro lavoro su un filo morbido lo possiamo allargare bene e lo possiamo utilizzare per fare la prova o lasciare in sospeso i punti se nel frattempo devo lavorare un'altra parte della maglia ok quando ricomincio a lavorare devo ricominciare a lavorare ovviamente devo riportare i punti sul ferro quindi farò la cosa contraria adesso qua lago diciamo non serve più no facciamo conto che l'abbiamo abbandonato quando decidiamo di riprendere a lavorare con molta accuratezza dovremo riprendere punto per punto ok o così o se no scusate adesso questo filo ancora o se no guardate piano piano sfilando man mano che andate non vedo bene dove inquadro quindi posso fare anche così piano piano mentre mentre ricarico i fili i punti sfilo il cavetto ma non serve il filo di scarto ma non serve fate con calma questo lavoro se mai tirate un po la maglia se vedete che fate fatica a raccoglierla ma si tratta solo di avere un po di pazienza non farsi prendere dalla fretta e acchiappare bene la maglia ogni volta ok andate così fino alla fine e avrete di nuovo il vostro lavoro sui ferri per continuare a lavorare ciao a presto